perdere collezionando almeno cinque nitide occasioni da gol è accaduto al Lecce fermato dalle parate di Brignoli e da un paio di disattenzioni difensive pagate a caro prezzo nella sfida di alta classifica contro il Palermo. I rosa nero più forti delle loro difficoltà societarie firmano una partenza a marce alte trovando il vantaggio dopo appena tre minuti con il diagonale chirurgico di Traikoski e sfiorando il raddoppio con Puskas lanciato a rete ma impreciso al momento della conclusione nello specchio della porta. Vigorito ha il suo da fare per arginare il Palermo che prova a legittimare il risultato con la conclusione dal limite di Muraschi messa in angolo dal portiere giallorosso. Passata la buriana iniziale però il Lecce si riorganizza e mette alle corde il Palermo senza trovare il meritato pareggio. Brignoli è un muro insuperabile non tanto sulla conclusione dei 25 metri di Taxidis quanto sulla botta dal limite di Caturano messa in angolo dal portiere Goleador. La Mantia ci prova di testa senza imprimere né forza né precisione alla traiettoria poi ancora Caturano a cercare la soluzione dalla distanza trovando pronto Brignoli che prima del riposo diventa prodigioso nel deviare sul palo la botta al volo di La Mantia da zero metri. Allo svantaggio il Lecce prova a ribellarsi anche ad inizio ripresa dopo questo diagonale fuori misura di Traikoski. L'occasione la costruisce di testa la Mantia ma Brignoli anche nell'occasione è reattivo. Il gol è nell'aria ma lo segna a sorpresa il Palermo che sorprende la difesa dei Salentini con il filtrante di Traikoski e il velo di Ciocev buono per lanciare verso la porta Puskas preciso nel battere per la seconda volta vigorito. La squadra di Liverani però questa volta reagisce con meno vigore nonostante Falco obblighi all'intervento con i piedi di Brignoli. Non preoccupa la conclusione di Muraschi bloccata da vigorito ancor meno pericoloso è il colpo di testa centrale di La Mantia. Il Lecce vorrebbe riaprirla con Falco, palla sul fondo poi a tenere in partita i giallorossi e ancora vigorito che chiude su Muraschi. La conclusione debole di Venuti bloccata da Brignoli è il segnale della resa del Lecce che però il gollo trova in pieno recupero con la prodezza di Tabanelli l'unica sulla quale Brignoli, uomo partita del per il Palermo non può fare nulla.